Raccolgo le segnalazioni dei cittadini. Come detto ripetutamente potete mandarmi video, foto e quant'altro al mio numero personale 339-240-4240. Vi rispondo personalmente e poi cerco di divulgare la questione mediaticamente e di affrontarla nelle sedi comunali competenti. Oggi voglio dare spazio a delle immagini fornitemi da un tarantino relativamente alla condizione dei marciapiedi e di tutto il contesto in cui versa la scuola De Carolis al quartiere Tamburi. Un quartiere martoriato che meriterebbe ben altra sorte e dicevo marciapiedi che sembrano un percorso di guerra quindi pericolosissimi per gli studenti, per i docenti, per chi accompagna i ragazzi a scuola. Ma non è solo la questione dei marciapiedi ma anche proprio la sporcizia diffusa. Questo cittadino ha anche mandato all'amministrazione comunale una PEC e abbiamo visto un po' il rimbalzarsi delle responsabilità perché il settore lavori pubblici, il dirigente, dal momento in cui si tratta di radici degli alberi che fanno sollevare la pavimentazione, risponde e rimpalla la situazione al corpo di polizia locale affinché transenni, metta in sicurezza l'area e intanto i giorni e i mesi passano. E assistiamo appunto al cittadino impotente che trova un muro davanti a sé, che è l'amministrazione comunale, che gioca un po' come dire a ping pong. A noi non interessano, dico a noi perché io sono un consigliere comunale ma mi sento innanzitutto, sono un cittadino. A noi non interessano questi interna corporis, passatemi questa espressione latina, cioè tutti i passaggi interni al funzionamento della macchina comunale. A me non interessa, al cittadino non interessa, il cittadino vuole risposte. Questi marciapiedi devono essere rifatti, deve avvenire la ripavimentazione di quest'area perché non è possibile davanti a una scuola, non è possibile, è grave. Già il quartiere Tamburi, ripeto, abbiamo visto la questione ILVA, le emissioni od origine, aggiungiamo anche queste situazioni, ma poveri ragazzi del quartiere Tamburi, ma che colpa hanno a dover vivere veramente in una situazione infernale? Lo ripeto, marciapiedi, sporcizia, verde abbandonato e in pieno stato di degrado. Insomma, voglio dire, in queste condizioni noi dobbiamo formare e far vivere quelli che saranno i ragazzi, i tarantini del futuro, quelli che dovrebbero portare avanti la nostra città. Almeno facciamolo per i nostri figli, per le future generazioni. Sindaco Melucci, lo ripeto, vai al quartiere Tamburi e parli, hai tanto vantato la tua azione amministrativa, parli di riqualificazione, di rigenerazione urbana del quartiere Tamburi. Questa è rigenerazione, con questi marciapiedi, con un cittadino che manda pec su pec e si vede sballottato da un ufficio all'altro. Ma per cortesia, penso che al di là delle mie parole, le immagini siano più eloquenti di quanto io vi ho potuto dire. Aspetto sempre vostre segnalazioni.